Pronto Simo? Ultimo colpo Fermato! Good job! Scusa mi sa che non è la pizzi, non è la nostra dove sparava. Ah qua c'è il tetto! Non è il campo vicino comunque. Scusate mi sa che prendere la pizzi davanti. Ah li vedo, dove sono, posizione? Eh 156, 160, 156. 1, 6, 0, 1, 6, 0, enemy, on the farm. Scusate! Lo vedo! Where is the tank? Scusate! Fumogeni! C'è stato un RPG? Enemy grenade launcher! SCAKE A FUNTO Scusate! They are attacking us, these guys. Atleti. Where my buddy is, they are attacking us! non fumo lancione si perchè non c'è neanche fumo lancione non vedo più niente non vedo più il fumo purtroppo serve a quello il fumo oh è entrato uno più gente dove? 2 enemy soldier at 1-6-0 1-6-0 ma ci sono i nostri a 160 ho ammazzato uno fuori da muro vedo sto scendo come un verme ho un problema ho tre caricatori i am down i am down bad action was grenade madonna cazzo è che hai lanciato la grattù e no hai arrivato il lanciato la tecco ho arrivato poca mi è arrivato grazie Dock sempre da le sopra, attenti dietro erano quassù uno squalido con gli occhi medici i am up oh cazzo che ho fatto una granata squalido squalido mettiamo i fiumi arancioni vede una minchia puoi mettermi in? puoi mettermi in? ah sei in mezzo al cazzo matti sei sulle scale matti ah si, allora non poteva passare sei in mezzo al cazzo ok ma uno fa giù la farà apacciarmi? si mi sta apacciando 23 contro 23 no mi spanno morto oh shit sono morto WTF WTF c'è un punto di spawn? no no, perchè mentre mi ha fatto spawnare e mi ha volato via l'omino contro un muro, poi mi si è schiettato da terra e sono svenuto morto ok Matt puoi mettere un spawn? no c'è a 50 metri dai nemici porca troia aspetta 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 adesso devi aspettare 2 minuti vabbè spawnò la far per prima non devo farlo, è vero? no 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 no, cazzo manferito sono due meriti da noi però si più la squadra numerosa come dice puoi fare no, guarda, non metti la post quella sopra la misera non sa il mirino si è quasi morto si è morto si è morto e io ho il Mark Mark Schman forse è vivo eh? per curare ha detto ha detto se non lo vedo mi devi guardare il Nord ma meno di guardare il Nord ma più uno di guardare il Nord sei dietro di me stlt? eh come la chat del gruppo totale non di 1 e 4 però Bologna con tutta la squadra non puoi parlare con tutta la fazione nel senso c'è l'obiettivo è Berona nei pressi i nel gruppo sto arrivando da nord da est ok ce ne vanno 1 8-6 ha 186-1 dietro il muretto ma è entrato nella piantagione si si un po' colpito thunder oi nemici ultramuro a 90 est sono sopra un muretto non c'ho eh simon mi riesci a bindare sono dietro di te dietro di te dietro di te dietro di te non c'è non c'è non c'è non c'è ma tutti svizzeri puttano mi bianca ok lunatico ascolta cosa ne dici se noi andiamo a attaccare la base e gli andiamo a levare quel cazzo di mortaio no no ok difficile ah figa oh che mi dò figa eh vabbè morto dal mortale C'erano prima di mettere i mortali noi e coltivano. Ho chiamato un medico. Io stavo pensando di chiedere alla squadra 2 e 3 di difendere qui e noi avevamo attaccare a risulgersi e risuoviamo la squadra 4. Medico! Medico! Da vai, da vai! Oh, товaris! Prima! Prima, 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 prima! Prima, prima, prima! Prima, prima! Prima, provo a sentire con la squadra 3, 4 e 1 e 2. Ah, guarda, qua c'è il tipo della squadra 3. Dov'è? Hey man! Wait, wait, wait! Squad leader 3. Vieni qui Simo. Sto cercando di trovarti. Waiti un moment. Ok, bye! Excuse me? Excuse me? Thank you! Thank you! I think you and your squadra and the second squadra cover the object. And the one squadra and the fourth? Fourteen? Fourteen? Attack insurgency. Object. Ok? Ah, I don't know. Probably my English, but it's not very bad. Enemies! 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 Non mi cagappare! Vabbè, andiamo! Sebi, sebi! Enemies! Vabbè! Oh, orcozino! Riparo, 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 riparo! Orpa! Porca troi! To spread in mundo! Oh, dietro, dietro! Dietro dov'è? No, no, ehm... C'è un addic. Ok, andiamo! Go on real point on the team leader! Team leader! Minamiot, ieri. They work with minamiot. What the hell are you saying? Minus, minus. Minus, minus. I can't find a riparo. Real point on Sarmatex. By the way, there's a Russian squad, apparently. If you want to speak. Lunatic Morshaw, eh? The one who is at Lunatic, eh? Here's a medic. Oh, I see a enemy! Oh, I see a enemy! The 6 squad is Russian! Ok, one enemy at 0, 5, 7. Oh, enemy here! Hey, squad 4. Squad leader 4. Ehhh... One enemy soldier on you. Go, go, go! Go, go! Go, go! Oh, shit! Eh, okay. There's an RPG, Simo! Take a RPG! In the house? Yes, exactly. In the house, I want it. Go! 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 Rebound! They're pressing fire! Oh, if you want to press it, I'll give it to you. When you want, Simo. When you're ready, you get ready. No! I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going to get it, Simo. The 075! The 075! The 075! The left will go. Let's go, Simo. No one understands you. Let's go. What the fuck are you doing? The 075! The 060! The 060! The 07! Giu, qui, qui Giu, qui, qui VERSBINE! E a terra e rusa e a terra! NO! Eh si givapa , se non mi tirano su... ... ... ... ... ... ... Sì, mortaio, Doc! Yuhuuu! Yuhuuu! Cazzo! Doc, cover you! Ok, cover you! Dai, dai, dai! APC, veni qui! Cosa mia squadra con mortaio? Cosa mia? Cosa mia squadra con mortaio? Hi, reload, reload! APC, veni qui! On the house! On the house! APC! APC! Pizzo di merda! Pizzo di merda di APC, puttana miacca! Rush on the house! Rush on the house! E mi passa solo! Push, push, push! Push, push cosa? MEDIC! I got 3 RPGs inside! Thanks, Doc! Love you! Ah, non ho l'ho lasciato Voglio fare la squadra mortai allora Tu quindi lo hai chiesto di fare la squadra mortai? Com'è? Ah, sto chiedendo lui Al riparo ragazzi Vedrò una gente morta qua È fuori amici questo Sì sì Ok Eh? Ok, là c'è il nostro PC Ok ragazzi Prendete la posizione Help me Oh, non è Miko Dove? Ah no, è Miko È Miko Ha 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 Devo... È ci dopo la scritta Iscriviti al nostro canale È elevata Oh, non lo so... È elevata